gentili telespettatori buona giornata siamo nella trasmissione di bianca berlinguer carta bianca su rai 3 non dovevano chiudere questa trasmissione vi ricordate avevano detto che forse dovranno chiuderla a gennaio forse deve concludersi l'anno non lo so comunque siamo nella trasmissione della berlinguer su rai 3 c'è ospite come sempre mauro corona e apre la puntata con una profezia tanto facile quanto amara gli italiani e gli occidentali devono prepararsi all'inverno del nostro scontento forse addirittura al tramonto di un tenore di vita fatto di agi molti vizi e privilegi soprattutto tanti sprechi troppi perché siamo entrando in un'economia da crisi internazionale e molti iniziano a rendersene conto solo ora bollette in mano e a rischiare il fallimento non sono solo centinaia sono migliaia di piccole e medie aziende ma anche tantissime famiglie italiane la crisi energetica non possiamo fare sempre le cicale dice lo scrittore scultore montanaro dice questo è il momento di fare le formiche non possiamo più fare la vita di prima anche se non è facile nel giro di poco tempo scardinare le nostre abitudini i rincari astronomici di gas luce la crisi internazionale corona vede a rischio anche le nostre impostazioni culturali e diritti che tutti ritengono acquisiti e intoccabili la legge ungherese che obbliga ad alcune cose ma come si fa bisogna ribellarsi a queste cose io sono inorridito certe conquiste certi diritti non vanno toccati io però rimango comunque ottimista la benzina oggi è scesa al di sotto di 1 e 7 la benzina è più bassa del 2021 prima che iniziasse tutto questo intanto perché l'europa per quanto riguarda il petrolio è quindi il petrolio è uscito fuori dalla logica della crisi internazionale si sono trovate delle alternative e non c'è più necessità che salga per quanto riguarda il gas ha esceso di molto in dieci giorni è sceso del 14 per cento scendendo addirittura sotto i 180 euro al megawatt ora vi ricordate che volevo volevano dicevano che tendeva 400 insomma meno della metà per fortuna io credo che la crisi del gas vada rientrando per quanto molti facciano allarmismo adesso vedrete io credo che il gas costerà di più di prima ormai non c'è dubbio però credo che non così tanto come si voleva immaginare il gas costerà di più ma non non da chiudere le aziende o far fallire le famiglie almeno questo è quello che io spero e così riducendosi il costo del gas dell'elettricità e il costo della benzina scendendo sotto una certa cifra dovrebbe riuscire a far scendere l'inflazione in europa un'europa adesso quasi autosufficiente dal gas russo autosufficiente per quanto riguarda l'energia elettrica io spero voglio immaginare che da adesso in avanti le cose andranno a migliorare e non a peggiorare quindi spero che non ci sia la fine della vita agiata ma un ritorno tipo al medioevo non credo proprio nel senso che o almeno spero proprio di no spero che le cose possano migliorare da qui in poi almeno è una è una mia diciamo così desiderata pertanto vi posso anche raccontare la meloni che dice che l'europa considera alcuni governi più amici di altri dice non sono qui a parlare della democrazia ungherese sarebbe un dibattito lungo sono in campagna elettorale in italia quando viene qui letta non gli chiedete di cuba vero ecco così la leader di fratelli d'italia giorgia meloni al programma tv oggi un altro giorno su rai 1 meloni ha approfittato del tema orban per parlare di quella che crede sia una disparità di trattamento in europa purtroppo si usano due pesi e due misure e non è un bene che l'unione che nasce su pari diritti poi consideri alcuni governi più amici altri meno amici non c'è bisogno di arrivare a orban due commissari europei si sono permessi di dire che se in italia vince il centrodestra non va bene diciamo che c'è un europa la sinistra italiana soprattutto vuole vedere un europa formata da paesi di serie a e europa formata da paesi di serie b ecco una sorta di suddivisione di qua ci sono i paesi ricchi quelli con la democrazia da prendere ad esempio di là ci sono i paesi ex unione sovietica dove i diritti non sanno manco che sono ecco l'europa al suo interno vorrebbe essere divisa dalla sinistra italiana europea in buoni cattivi in serie a serie b visto che in europa come in italia vogliono relegare quelli che sono conservatori di destra a paesi partiti e politici di serie b un po un riflesso della nostra sinistra italiana in europa no la sinistra in italia si crede superiore alla destra si chiede si crede migliore noi siamo e voi non siete noi siamo i buoni voi cattivi la stessa cosa la sta proiettando la sta proiettando nel nel in europa dove vorrebbero riproporre lo stesso modello italiano i buoni cattivi serie a serie b noi siamo quelli intelligenti voi siete quelli no noi siamo quelli democratici voi tendete alla dittatura un po questo è quello che sta facendo l'europa naturalmente con la partecipazione straordinaria della nostra sinistra italiana che va pure in europa a sparlare del del proprio paese ma è così purtroppo io vi ringrazio per avermi ascoltato vi auguro buon proseguimento di giornata ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti grazie a tutti a presto e ricordatevi che c'è anche tele italia seconda rete dove trovate video di politica notizia fai da te e poi c'è anche tele italia non tele italia scusate in cucina con carla che il programma di mia moglie programma di youtube che parla di cucina a chi è interessato vedere come si preparano dei piatti stranieri lo può fare grazie a tutti e arrivederci a presto